Per la nostra azienda è molto importante giocare un ruolo su questo tema perché noi da sempre abbiamo il nostro purpose è quello di portare la gioia del cibo ben fatto e per noi ben fatto significa sia garantire la massima qualità del cibo, garantire determinate guideline nutrizionali e poi chiaramente occuparci anche dell'ambiente dove noi andiamo a coltivare le materie prime che poi utilizziamo nei nostri prodotti quindi il nostro ruolo è di continuare ad aiutare all'interno della filiera produttiva chi coltiva la nostra materia prima in modo tale da assicurarci che venga fatto tutto in modo giusto e corretto secondo i criteri dell'agricoltura sostenibile e poi il nostro ruolo è quello di informare le persone perché noi parliamo a tante famiglie italiane e soprattutto iniziare a coinvolgere su questi temi di sostenibilità.